Medinitally, 1800 aziende start up, nuove start up in meno di 48 mesi, una media di 5 nuove piccole imprese al giorno. Il dato è emerso ieri in tarda serata e oggi titolano molti quotidiani nazionali. Dunque uno spiraglio, seppur flebile, in fondo al tunnel in un momento di grave crisi per tutto il paese. Di economia, parliamo con il presidente dell'Ance Foggia, Gerardo Biancofiore. Buongiorno, ben trovato a lei. Ed è vicepresidente del gruppo piccole e medie imprese Ance Estero. Quindi parliamo anche poi della situazione delle nostre imprese all'estero, di come si sta muovendo il mercato all'estero rispetto a quello italiano. Allora, presidente, 1800 start up, sono un numero imponente, la Puglia è la seconda regione del sud per nuove start up, 76-48 mesi. Il problema è che queste start up poi rischiano di non imboccare il percorso della crescita, della normale crescita, perché al barco li attende il cuneo fiscale. E' proprio questo il problema. Secondo me oggi bisogna puntare sui giovani, perché la situazione è così grave. Se si guarda la disoccupazione giovanile, specialmente al sud, nel nostro territorio, è spaventosa. Io proprio stamattina ho fatto gli auguri alla prima riunione del nuovo presidente dei giovani costruttori della provincia di Foggia e ho augurato loro di essere una fucina di idee e di andare avanti sull'innovazione, sulla ricerca e di presentare sempre progetti che ci facciano sognare, che facciano sognare la nostra capitanata. E non solo. Quindi, secondo me, si parla tanto in questi giorni di Job Act. Io credo che ci serve un Job Act per i giovani, che aiutano le imprese giovani, di fatta di giovani, di come assistere i giovani quando avviano un'impresa. E non come avviene oggi, che oltre a perdere 6 giorni di tempo, perdere 12, 13 procedure per avviare un'impresa, tu devi pagare già 3 mila Euro di IMS. Sì, insomma, il primo step... Questo in maniera molto concreta. Senta, Presidente, il settore dell'edilizia è probabilmente il settore che sta soffrendo maggiormente in capitanata. Ci sono molti cantieri che hanno chiuso, molti si sono fermati prima ancora di poter partire. c'è una perdita di posti di lavoro imponente. E chiaramente questo racconta che comunque intorno anche tutti gli altri settori stanno andando in sofferenza. A partire dall'agricoltura, insomma, del settore primario, quindi... Beh, io devo dire che il settore delle costruzioni a livello nazionale sta soffrendo moltissimo e quindi di conseguenza anche nel nostro territorio soffre tantissimo. In tutti i paesi del mondo, l'America per prima, il settore che è partito, che ha fatto ripartire l'economia, è stata l'edilizia. la Germania, l'Inghilterra, la Francia, settore che è trainante di altri 89 settori, non di uno. Un miliardo investito in edilizia che ne porta sei di riscontro. Quindi, secondo me, c'è stata proprio una visione sbagliata degli ultimi governi nei confronti di questo settore. Certamente le tasse, il fisco, il credito. Cioè, da una parte le tasse che aumentano, il fisco che ti stringe, quindi le tasse, e la mancanza di credito. Questi fattori hanno fatto sì che questo settore entrasse in crisi. Però, devo aggiungere, perché io ho sempre una visione molto positiva, in Italia, rispetto ad altri paesi, non abbiamo una bolla immobiliare. Anzi, secondo me, dobbiamo rifarci, sicuramente, degli errori del passato di costruire in classe A, sul risparmio energetico, sull'efficienza energetica, su costruire sul costruito, ma noi abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione snella e veloce, e meno costosa. Ecco, a proposito di pubblica amministrazione, uno dei, forse il problema maggiore in questo momento per le imprese italiane, è proprio il credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione, è un credito imponente, ecco, prendiamo per esempio il Sole 24 Ore, con l'intervento del Vice Presidente della Commissione Europea, Antonio Tajani, che annuncia, nei giorni scorsi ha annunciato, il rischio doppia, duplice infrazione per l'Italia, però è interessante anche quello che dice Tajani, rispetto proprio alla, non tanto alla politica, ma rispetto alla, diciamo, alla burocrazia, alle responsabilità dei dirigenti che bloccano probabilmente la macchina amministrativa nel erogare il credito vantato dalle imprese, insomma. purtroppo la burocrazia è un peso, è una tasso occulta sulle spalle delle imprese e dei cittadini. Secondo me dei burocrati non è che ne possiamo totalmente eliminare, anzi, certi sono proprio indispensabili e utili. Come dicevo prima, però, va fatta la riforma della pubblica amministrazione puntando a scelte concrete, cioè, a una pubblica amministrazione più snella e meno onerosa. Aggiungo, per i debiti della PIA che è veramente una cosa non da un paese civile, io che faccio dei lavori e non vengo pagato, poi lo Stato che fa? Quando pretende una tassa mi fa fare il suddito e immediatamente devo pagare, altrimenti ti sequestro casa tua o qualsiasi altra cosa. Quindi è impensabile che in uno Stato civile succeda questo, credo che però succede la realtà sarebbe impensabile in uno Stato civile ma insomma purtroppo l'annuncio del Presidente Renzi che ci dice che pagherò immediatamente i debiti della PIA bene, questi annunci noi di per ora siamo sempre noi a consultiva e verifichiamo aver intrapreso la strata del DDL significa aver allungato i tempi non vorrei che questo sia per superare le elezioni europee e poi si pensa. Lo dice lo stesso Tajani rispetto al disegno di legge insomma ci sono dei tempi si allungano i tempi si sarebbe aspettato lo dice chiaramente il disegno di legge ecco così dal sole 24 ore ben venga ma avrei preferito un decreto ecco perché poi dice c'è una parte della burocrazia che frena perché poi tutto questo si 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 scontra con imprese che chiudono esatto fornitori che non vengono pagati lavoratori che restano a casa e non solo professionisti architetti ingegneri che non lavorano questa è la realtà quindi si blocca l'intero ciclo dell'economia perché poi Presidente c'è anche una filiera non è solo l'impresa che ha direttamente banta il credito nei confronti della pubblica amministrazione a fermarsi c'è tutta la filiera c'è a cascata a cascata tutti i fornitori i fornitori degli impianti i fornitori del cemento i fornitori dei laterizi a cascata e tutti vanno in crisi cosa vi ha aspettato per esempio andiamo sul nostro territorio per esempio dalle nostre nostre enti locali dalla nostra pubblica amministrazione che magari in casa sicuramente hanno hanno certamente hanno partiamo in maniera concreta dalle cose che si possono fare subito io quello che ho sempre sollecitato alle amministrazioni guardate voi avete questo progetto ve ne faccio un esempio il casello autostradale esatto finanziato appaltato e non partono i lavori ma è possibile mai in un momento così di crisi ascoltare o perdere tempo perché il burocrate di turno ferma perché qui bisogna pagare questo è assurdo lo specifico sul casello autostradale ci sono purtroppo noi lo abbiamo denunciato più volte ci sono degli interessi legati agli espropri e questo la gente lo deve sapere la gente lo deve sapere perché qui c'è gente che ha bisogno di lavorare ha bisogno di lavorare queste sono le risposte che si aspetta a un territorio a parte che bisogna fare quell'opera che è utile alla zona industriale che crea nuovi indotti quella è una battaglia e io lo voglio sottolineare fatta da con l'industria e da Ance cioè quel casello l'abbiamo voluto fortemente noi che ci occupiamo di infrastrutture e di sviluppo industriale e tanti demeriti però intanto ci mettiamo delle stelle importanti beh vabbè insomma questo purtroppo accade sempre più spesso in ogni settore ma restiamo sulla questione dei debiti nella pubblica amministrazione ecco in particolare quello che si chiede è un po' di certezza nei tempi insomma se io firmo un contratto e io ho 360 giorni per fare l'opera e poi non ho la certezza di riscuotere come con che tipo di lavorazione io vado a fare con quale spirito vado a lavorare ok se io ho voglia di partecipare perché significa prendere quel lavoro e poi fallire senta lei è anche presidente del gruppo piccole e medie imprese all'estero ecco rispetto ad una impresa che lavora all'estero e il rapporto che l'impresa ha con la pubblica amministrazione in un altro stato qual è? perché insomma noi sforiamo i tempi la nostra pubblica amministrazione sforia i tempi dei pagamenti ormai per questa è una inflazione faccio una premessa prima di tutto noi siamo imprese italiane e vogliamo che il mercato interno inizia ad avere dei segnali positivi all'estero si cresce si cresce e cresce più del nostro mercato le imprese italiane che lavorano all'estero superano il fatturato interno quindi superano il fatturato interno di tutta l'Italia le imprese che lavorano all'estero mamma mia quindi siamo orgogliosi all'estero ci vedono vedono il mar di l'Italia e amano il mar di l'Italia e anche nelle costruzioni certamente se tu vuoi andare a costruire un palazzo sicre e semplicite lo fanno loro già ma sulla parte risparmio energetico sul design siamo numeri uno e siamo devo dire io ho fatto una missione torno da poco dall'Azerbaijan ah però un'accoglienza incredibile devo dire una disponibilità e tante opportunità che veramente dice ma noi siamo il terzo mondo e la pubblica amministrazione è lì come si comporta? totalmente disponibili totalmente disponibili sono più veloci? velocissimi velocissimi cioè i tempi di pagamento per esempio in Azerbaijan Azerbaijan non parliamo della Francia 15 giorni data fattura siamo il terzo mondo 15 giorni data fattura io faccio il lavoro deposito la fattura e dopo 15 giorni mi pagano e lei come se lo spiega? me lo spiego perché è un paese civile bisogna fare delle scelte quando si prendono degli impegni bisogna mantenerli se io devo costruirti un ospedale so che devo farti l'ospedale te lo devo fare con tutti i crisi so che mi aspetta questo se poi lei non mi paga io fallisco e lei non è venuta a patti però lì quando mi chiede di mettermi la finestra oppure di pagare le tasse io le devo pagare o di fare il lavoro come conviene insomma per noi resta un miraggio no no io devo dire che con grande soddisfazione che ricopro questo ruolo è una grande esperienza per me è la prima volta che un presidente di una territoriale del sud o un uomo del sud abbia questo ruolo importante all'estero ed è un'esperienza che veramente mi fa crescere io poi mi confronto e le do un altro dato con gli altri presidenti delle PMI francesi tedeschi sono molto più forti di noi perché hanno un sistema politico che li accompagna hanno un sistema finanziario che li accompagna noi con tutte queste defiance ce la facciamo sempre cioè amano i nostri ma i miei diritti devo dire un dato molto importante presso il mio ufficio a Roma la Farnesina ha distaccato un ambasciatore e quindi noi abbiamo tutta la rete delle ambasciate nel mondo che sono a sistema nostro quindi ci fanno un lavoro per noi noi andiamo a missioni di lì c'è un ambasciatore straordinario insomma questo veramente eccezionale è una bellissima esperienza senta in Francia invece i tempi di pagamento della pubblica amministrazione 30 giorni 30 giorni sì sì 30 giorni senta presidente siamo in chiusura un'ultima battuta allora ci sono 22 miliardi di fondi strutturali per investimenti dunque nelle regioni 5 miliardi per la regione Puglia insomma voi aspettate che si muova qualcosa che i progetti ce ne sono tanti beh io le faccio due esempi noi abbiamo assistito due anni fa al piano città non ne è partito uno ed erano anche fondi europei oggi l'Europa io ho anche un ufficio a Bruxelles oggi l'Europa si occuperà fortemente delle città delle politiche urbane delle città e ci saranno grandi grossi finanziamenti il vero problema è di superare il patto di stabilità cioè se non si va a contrattare con il nostro governo il governo con l'Europa il patto noi non ce ne usciremo non saremo capaci se nel 2007 2013 abbiamo speso e ce ne resta da spendere ci hanno dato una prova di un anno e mezzo altri 8 miliardi che non riusciremo a spendere e poi c'è la proclamazione 2014-2020 non riusciremo a spendere i soldi e questo non è possibile cioè noi siamo una regione obiettivo 1 ma io da 5-6 anni mi alzo a casa mia non vedo tutte queste infrastrutture questo altro non le vedo cioè guardate io credo che in Capitanata come nella nostra regione dobbiamo fare un punto sul discorso per far ripartire il nostro la nostra provincia ma fare un punto sulle infrastrutture è assurdo quello che ci sta capitando sulle FI con l'alta capacità cioè significa allungare i tempi di 4-5 anni e qui i nostri politici e il governo devono intervenire speriamo bene e speriamo il più velocemente possibile perché insomma non solo sconteremo continueremo a scontare un gap infrastrutturale veramente sappiamo come in Capitanata diciamo veniamo un po' distrattati la vicenda di Regino Lisa prima il casello ma credo che se tutte le amministrazioni pubbliche mettessero fuori tutti i progetti che hanno nel cassetto che sono fermi per quella virgola burocratica un piccolo respiro concreto c'è e ce ne sono tante di opere da attenzionare avremo modo sicuramente di parlarne in maniera più approfondita con più spazio a nostra disposizione sicuramente nei prossimi giorni io la ringrazio per essere stato con noi per averci dato queste informazioni queste notizie e anche magari delle piccole speranze grazie a voi per averci seguito buona giornata buona giornata che suele la campana a Grazie a tutti.